Grande soddisfazione per la Feder Consumatori dopo la decisione del Tribunale di Teramo che ha emesso il 21 gennaio 2019, un'importante sentenza in favore di quattro risparmiatori che avevano investito quasi 200.000 euro in azioni della Tercas nel 2006 e la prima decisione presa dalla magistratura civile teramana. Sono inoltre pendenti altre 27 cause in corso che raggruppano circa 230 azionisti, i quali nel 2014 si rivolsero alla Feder Consumatori per veder tutelati i loro diritti. Noi abbiamo avuto intanto la soddisfazione di avere una risposta finalmente dopo tanto tempo rispetto a questi consumatori o utenti che hanno accettato di sottoscrivere le azioni. Speriamo che le altre cause, che sono oltre 100, quelle che abbiamo tutelato attraverso l'Avvocato, ci auguriamo che sia un indirizzo buono per poter risolvere i problemi anche degli altri oltre a questi qua. Ci auguriamo anche che magari il buon senso prevalga rispetto al fatto di fare appello, ricorsi, eccetera, ci porterà sicuramente ulteriori difficoltà per quelli che abbiamo tutelati. Noi ci auguriamo che questa decisione possa essere almeno una traccia per chi dovrà decidere rispetto alle altre cause.